Ma guarda, ancora è così, ancora è così, io lo vedo così Ma che cosa? Ancora è così Sì Guarda sta cascando giù Hai cascato Hai caduto, hai caduto Ma che? Ma, tre macchine, cinque macchine, ma che spazio Ma Moltiplicazione Ma che gazzio Che sta succedendo Ma c'è la motivazione delle macchine Abbiamo fatto qualche ammunition Ma che è successo Mi sa che se ne sono accorti Anche loro Guarda, io faccio così Mi sto rinforzando Mettila su YouTube Vai Dai che è tutto buggato Che le trovate ste macchine Sì